Como è alle prese da 15 anni con il cantiere infinito delle Paratie, Lecco intanto corre, presenta il progetto definitivo del lungo lago e annuncia l'avvio dei lavori nel prossimo mese di luglio. Non si parla di barriere anti-esondazione, è bene dirlo, ma certamente cambierà l'immagine della città, della passeggiata e dell'area ridosso del lago. Nella zona sarà istituito anche il limite di velocità a 30 km orari. Il progetto è stato presentato in commissione consigliare a Lecco, dall'assessore ai lavori pubblici Maria Sacchi e dal sindaco Mauro Gattinoni. Obiettivi indicati, allargare lo spazio, aumentare la fruibilità, ricucire le relazioni tra acqua e città. I lavori del nuovo lungo lago prevedono da un lato di rigenerare 70.000 m2 di passeggiata, con l'utilizzo di fondi del PNRR. Dall'altro la realizzazione di una pista ciclopedonale finanziata con risorse regionali. La passeggiata sarà allargata e arricchita da nuovi spazi verdi e aree dedicate a biciclette e pedoni. Il piano stradale sarà rialzato in corrispondenza degli attraversamenti. Le parti pedonali saranno in porfido, la ciclopedonale in calcestruzzo. Per preservare gli alberi, vista la necessità di intervenire sulle radici, l'intera passeggiata sarà rialzata di una ventina di centimetri. L'arredo urbano si limiterà a cestini, portabiciclette e dissuasori e saranno mantenute le attuali panchine e i lampioni. È prevista la piantumazione di nuovi alberi. Novità anche per la viabilità, il limite di velocità sarà abbassato a 30 km orari in tutto il tratto del Lungolago, con una riduzione ulteriore a 20 km orari in zona di piazza Cermenati. L'amministrazione comunale annuncia l'affidamento dei lavori e l'avvio del cantiere entro luglio. Dal Lungolago di Lecco, il cui restyling inizierà a luglio, a quello di Como, dove il cantiere delle Paratie tiene in scacco la città da 15 anni. I lavori della Maxi Opera, da oltre 30 milioni di euro e dal 2016 nelle mani di Regione Lombardia, stanno procedendo. Secondo l'ultimo cronoprogramma aggiornato, il tratto da Sant'Agostino a Piazza Cavour, compresa, sarà consegnato alla città a marzo di quest'anno. Nel 2024 la conclusione poi di tutta l'opera. Atteso per l'inizio di febbraio un sopralluogo durante il quale è prevista una simulazione anche del funzionamento delle nuove Paratie. Sempre per l'inizio di febbraio è previsto inoltre l'avvio del cantiere per gli arredi del Lungolago nel primo tratto di passeggiata pronto, inizialmente annunciati per la metà di gennaio. Il contratto con l'azienda è stato firmato, ha confermato il sindaco Alessandro Rapinese. Vanno stabilite le ultime modalità operative, ma siamo pronti a partire i primi giorni del mese prossimo, ha aggiunto il primo cittadino. Questo intervento è in capo all'amministrazione e comprende aiuole, panchine del prototipo di Ico Parisi, inserti nella pavimentazione e rappresentazione del tema pliniano. La passeggiata sarà infatti dedicata a Plinio il Vecchio, naturalista comasco di cui quest'anno ricorre il bimillenario dalla nascita.